La chirurgia estetica è un'arte e come tale presuppone tecnica e soprattutto senso estetico. Parliamo di rinoplastica. La rinoplastica è l'intervento di chirurgia estetica che meglio esprime il senso estetico del chirurgo. Attraverso mini incisioni nascoste all'interno delle narici è possibile modellare la struttura osteocartilaginea del dorso e della punta nasale. Uno studio accurato preoperatorio al computer è essenziale per ottenere un risultato naturale che realizzi i desideri della paziente stessa. In alcuni casi si rende necessario anche un contemporaneo intervento funzionale sul setto deviato e sui turbinati, in modo da migliorarne anche la respirazione. È previsto un tutore esterno che deve essere indossato per circa 5 giorni, dopodiché altri 5 giorni con dei cerottini per contrastare il gonfiore post-operatorio. La rinoplastica è un intervento eseguibile in anestesia locale o generale, con ricovero in dei hospital o con una notte di degenza in clinica. Sicurezza, professionalità e senso estetico sono la base di un buon risultato di una rinoplastica.